allora sta tornando l'inverno per fortuna ci sono meno 3 gradi la neve qui come potete vedere alle mie spalle e qua sopra si si vede si vede male ma si vede è completamente gelata perché ha fatto pioggia nei giorni scorsi è piovuto sopra poi ha fatto caldo si è sciolta è praticamente un vetro dura durissima durissimissima non si non si riesce a intaccare minimamente con con i piedi ci sono non ho lo scarpone rigido ma è uguale comunque è la stessa cosa è veramente durissima cosa vi volevo dire volevo dire che io sono venuto gli sci in macchina ma non credo me li metterò prima cosa perché in alto non si vede assolutamente niente e non avrebbe un gran senso salire seconda cosa con un fondo del genere che è come un vetro non è proprio piacevole sciare diventa anche pericoloso perché veramente la neve che ha fatto sopra sono due centimetri forse un centimetro e mezzo due centimetri una roba così e non non dappertutto e non c'è copertura quindi uniforme queste condizioni non vanno bene assolutamente per gli sci ma non vanno bene assolutamente neanche per le ciaspole ho visto partire da dal sebastiani almeno due gruppi di una ventina di persone con le ciaspole vi vorrei dire ma non perché ce l'ho con quelli che fanno ciaspole assolutamente la stessa cosa sarebbe se avessi visto dei gruppi che partivano per fare sci alpinismo cioè bisogna anche contestualizzare quello che andiamo a fare in montagna queste condizioni sono da ramponi e piccozza ok perché perché sono gli attrezzi che ci consentano di muoverci in questo ambiente con maggiore sicurezza per questo tipo di condizioni ecco tutto qua vorrei vorrei dire a tutti di di cercare di valutare al momento no le condizioni non è che se sono partito per fare sci alpinismo lo devo fare per forza e neanche se devo fare ciaspole lo devo fare per forza se c'è una superficie di questo tipo completamente gelata non è adatto per le ciaspole non è adatto neanche per gli sci quasi va via con ramponi e piccozza altrimenti non ha senso e diventa pericoloso ok ciao a tutti